liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città bentornati e bentornate di nuovo a tutte e tutti siete su liberi dentro eduradio tv il nostro programma di informazione approfondimento che fa da ponte tra carcere e città io sono caterina qui con voi in collegamento con antonella cortese da parma ciao antonella ciao caterina ciao a tutti partiamo oggi sempre con la nostra rassegna stampa tra carcere e città e leggo questa notizia sulla verità telecomunicazioni niente lavoratori usiamo i carcerati a firma di fiorina capozzi ecco è una notizia che tocca il delicatissimo tema principe dell'articolo 1 della costituzione il lavoro che desta preoccupazioni sia quando non c'è sia ovviamente quando mancano i lavoratori e se da un lato infatti c'è il reddito di cittadinanza dall'altro c'è la penuria di manodopera e in mezzo c'è il governo che immagina soluzioni anche creative come l'uso dei lavoratori carcerati per far partire i cantieri della fibra e del 5g in italia quindi caterina da una parte si sta cercando di evitare di mancare gli obiettivi di innovazione tecnologica e di transizione digitale che dovremmo rispettare in effetti e va bene però quali sono i vantaggi per le persone detenute a questo punto beh allora secondo quanto risulta da verità e affari il ministero di grazia e giustizia e quello per l'innovazione tecnologica hanno invitato la società pubblica open fiber a valutare l'utilizzazione del lavoro dei carcerati su cantieri della fibra un'operazione che sembra un'opzione questa che sembra piacere molto alla società per via mi chiedevi quali sono i vantaggi chiaramente dei minori costi che porterebbe nei lavori di posa della fibra non solo la richiesta si è estesa anche all'intera filiera italiana delle società telecom impegnate nello sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione non si sa ancora quale sarà il numero di detenuti coinvolti nell'operazione cantieri e ne esistono dettagli su le case circondariali che aderiranno alla proposta ma di certo aiuta il fatto che ogni cantiere potrà contare su una struttura locale per attingere alla mano d'opera certo il primo pensiero che mi viene quindi non verrebbero retribuiti minimamente ma non so se questo sia la cosa più corretta però al di là di tutto ci aspettiamo che ci sia anche un intento riabilitativo sullo sfondo oltre che di risparmio come dicevamo sul costo del lavoro ma si sa quante persone potrebbero essere coinvolte allora per quanto riguarda la posa della fibra l'operazione dovrebbe avvenire nelle aree bianche attraverso il neonato open fibra network solution che è costituito dalla società pubblica open fibra insieme ad aspi proprio con l'obiettivo di sbloccare i cantieri nelle aree bianche per i numeri stando alle aspettative del consorzio si dovrebbero impiegare circa 700 persone oltre a dare occupazione ad altri 400 lavoratori nelle imprese di subappalto sul pagamento e sull'inquadramento delle persone diciamo che dovrebbe essere fatto un contratto nelle telecomunicazioni quindi una retribuzione minima ci dovrebbe essere oppure un contratto degli edili con tanto di risparmio chiaramente sul costo della mano d'opera ma la curiosa storia dei cantieri della fibra per aree bianche non finisce qui perché a complicare la vita del neonato consorzio ci si è messa anche l'autorità nazionale anticorruzione ANAC infatti l'autorità non è convinta del fatto che le specifiche tecniche e legali del bando per posare la fibra nelle aree bianche che è stato vinto proprio da open fiber consentano la realizzazione dei lavori attraverso il consorzio e quindi il risultato è che adesso siamo in un limbo non c'è la certezza di poter lavorare attraverso il neonato consorzio e il risultato è che i lavori stanno andando a rilento anche a discapito dei numerosi italiani che hanno lavorato in questi mesi anni ecco in smart working con la rete a rilento anche quella ma io mi fermo qui diteci cosa ne pensate scriveteci in redazione liberi dentro chiocciola gmail.com mi fermo qui per dare la parola a marcello mattè il cappellano del carcere della dozza di bologna che ci racconta il suo ruolo la sua missione all'interno delle carceri già dal 2016 io come cappellano del carcere il mio impegno inizia nel 2016 nel settembre quando appunto il vescovo Matteo Zuppi mi ha dato questo incarico però la mia presenza in carcere risale al 1995 quando sono entrato un po' improvvisamente inaspettatamente se qualcuno un mese prima non mi avesse detto tu andrai a far servizio in carcere di aver risposto ma tu sei matto io non ho ben altro da fare a quei tempi stavo collaborando alla rivista Il Regno e invece poi siccome nel tempo libero dagli impegni con la rivista frequentavo la Villa Palavicini in aiuto a Don Giuseppe Nozzi che a quei tempi era direttore della villa e si era preso a cura di un gruppo di albanesi che erano stati ospitati in quella villa e uno di questi ragazzi era finito in carcere allora avevo chiesto al giudice la possibilità di poterlo andare a trovare come familiare perché non aveva nessuno in Italia e attraverso questi colloqui familiari diciamo così ho conosciuto la realtà del carcere mi aveva molto incuriosito mi aveva anche molto colpito e avevo chiesto al lavoro la possibilità di poter fare servizio come volontario in carcere appunto nel 95 ho cominciato a fare questo servizio come volontario mi sono inserito sia nella collaboravo sia con l'AVOC che è l'associazione di volontari di Bologna sia con il centro Poggeschi che ha questo gruppo carcere e così attraverso le attività che loro promuovevano ho cominciato anche io a svolgere a partecipare a queste attività con l'estate d'ozza eccetera dopodiché la mia presenza si è rese più continuativa con i servizi delle messe dominicali l'ho interrotta a un certo punto perché avevo cominciato a fare servizio al Pratello perché al villaggio del Fanciulla avevamo aperto una comunità per minori dove ospitavamo anche alcuni ragazzi provenienti dal Pratello e poi nel 2006-2007 avevo ricominciato a tornare alla dozza finché nel 2016 appunto attraverso un accordo con il Vescovo che da tempo stava cercando la disponibilità di un capellano perché il capellano non c'era attraverso un accordo con lui che fra l'altro è stato l'accordo che ha dato il via anche al progetto del quale poi se avrò occasione ti parlerò e mi ha dato questo incarico che ho accettato non sono da solo nello svolgere questo servizio io il titolo di capellano ma in realtà l'incarico è dato a una capellania cioè a un gruppo di sacerdoti religiosi e religiose consacrate che svolgono questo servizio di pastorale in carcere. Quindi la figura del capellano giusto per ricordarlo è una figura stabilita dalla legge 4 marzo dell'82 ed è davvero una presenza importantissima che non si esaurisce soltanto all'interno delle strutture penitenziari ma forse prevede ancora di più all'esterno una grande operatività anche nel territorio mi riferisco per esempio al rapporto con le famiglie delle persone detenute cioè raccontaci la tua esperienza cosa fai? Innanzitutto come capellano all'interno del carcere l'attività non è rivolta soltanto alle persone detenute ma il capellano di per sé è capellano dell'intero istituto quindi devo dedicare attenzione e voglio dedicare attenzione anche al personale di Polizia Penitenziaria, al personale amministrativo cioè a tutta la popolazione che compone quel villaggio particolare che è un istituto di detenzione. Però è vero quello che dicevi Caterina cioè molta attività si svolge all'interno ma non è minore l'attività che si svolge all'esterno che non viene registrata diciamo così dalla vita dell'istituto ma che però fa parte della vita delle persone che vivono in quell'istituto e come dicevi appunto si tratta di tenere il contatto con le famiglie e cercare di aiutare anche le famiglie nel recuperare questi incontri che spesso queste relazioni che spesso sono rilacerate o sfilacciate dalla detenzione e poi soprattutto si tratta di lavorare molto per il dopo perché la pena non finisce tutto il carcere. Se cronologicamente c'è un fine pena che è stabilito sul fascicolo di ogni singola persona oltre la quale, oltre quella data la persona viene dimessa dal carcere necessariamente però la sua pena continua tante volte. Quella pena che ha coinvolto i familiari ora si coinvolge anche le persone detenute che si trovano improvvisamente in libertà e tante volte almeno un caso su due si trovano senza nessuna risorsa, senza nessuna possibilità ed è anche questo uno dei motivi che rende così alta la percentuale della recidiva, cioè tante persone si sentono spinte, nessuno è costretto a delinquere, però si sentono fortemente spinte a combinare qualche cosa per sopravvivere. Parlavi di un interesse che è scattato a un certo punto per la figura del cappellano in carcere, che cosa ti ha attratto maggiormente? Mi aveva attratto intanto la possibilità appunto di continuare a svolgere il mio ministero, però che fosse anche un mandato da parte della comunità ecclesiale di Bologna, cioè non ero più io singolarmente che andavo a fare servizi in carcere, a fare lo servizio che si svolge soprattutto nei colloqui individuali con le persone, ma che questo portasse con sé un mandato, cioè la comunità ecclesiale di Bologna che mi dice vai a rappresentarci, a svolgere questo servizio, porta la chiesa di Bologna dentro il carcere, l'attenzione della chiesa di Bologna dentro il carcere. Secondo me è molto significativo che ci sia questa figura, cioè che ci sia qualcuno che dice alle persone che sono oltre quelle mura lì, voi non siete soli, la chiesa di Bologna non vi abbandona, anzi vogliamo costruire una porzione di chiesa anche qua dentro. Noi non andiamo a portare la messa in carcere, noi andiamo a celebrare la messa della comunità che è in carcere e questo secondo me è significativo che appunto venga dal mandato di un vescovo. Dopo aver ascoltato Marcello Mattei, torniamo sull'argomento che avevamo già cominciato ad affrontare ieri, cioè gli stupri in guerra e le relative condanne. Come sapete lo stupro in guerra è al tempo stesso un crimine di guerra, ma è anche un crimine contro l'umanità ovviamente. Però nonostante un sostanziale accordo sulla definizione di questi crimini, portare tali casi avanti a un trimunale e produrre ovviamente le prove è tutta un'altra storia. La guerra in Ucraina però ci offre un'opportunità per correggere questi fallimenti. Ieri accennavi ai progressi tecnologici, ma in che modo essi possono essere d'aiuto? Caterina, grazie ai progressi tecnologici, pensa alla quantità di immagini che riceviamo a livello satellitare, i telefoni in grado di fare foto, video ed altre risoluzioni, servizi internet più veloci e più accessibili, piattaforme, sostanzialmente è tutto più rapido, più efficace, più immediato. Grazie a queste modalità gli operatori sanitari, gli avvocati, gli attivisti per i diritti umani sono in grado di far sapere a tutto il mondo quello che sta succedendo in Ucraina e possono documentare i casi con modalità che torneranno utili nel caso di eventuali processi. Queste nuove o diciamo più moderne tecnologie sono da considerarsi complementari ai tradizionali metodi di documentazione, compresa anche la raccolta di informazioni da disertori, la rilevazione tempestiva di prove mediche e il riperimento di dettagli da parte di chi ha commesso i crimini, come è stato fatto con i nazisti nella seconda guerra mondiale e con l'esercito serbo-bosniaco. Tuttavia non credo che si possa avere la prova fisica della violenza subita o sbaglio, cioè è un caso particolare quello della violenza sessuale, no? Eh sì, in effetti è così perché nel caso specifico dello stupro spesso non ci sono prove fisiche del danno ai tessuti molli utili a dimostrare il reato nell'aula del tribunale, anche perché molto spesso passa del tempo. Possono però esserci altre ferite rivelatrice come per esempio bruciature di sigarette, cicatrici provocate dalle gacci, schegge di legno, abrasioni, mutilazioni genitali che devono essere documentate in modo chiaro e professionali e infatti le indagini devono essere giustamente condotte da personale competente sulle questioni di genere. Cosa fondamentale, tutta questa raccolta di prove può cominciare subito, sia nelle aree da dove le forze russe si sono ritirate, sia nelle parti dell'Ucraina ancora contese, ma dove le comunicazioni non sono state interrotte. L'Unione Europea, le Nazioni Unite, diverse organizzazioni per i diritti umani, il segretario generale della Nato e il procuratore generale dell'Ucraina hanno tutti di recente chiesto di indagare sui possibili crimini di guerra in Ucraina, compreso lo stupro, ho offerto il loro aiuto in indagini di questo tipo. Questo sì è già successo, però in questa fase diciamo che in cui ancora non si vede la risoluzione definitiva del conflitto, pensare a un momento in cui soldati russi potrebbero essere processati per le loro violenze sembra un po' un esercizio di fantasia. Tuttavia non è del tutto impossibile. Nella Russia, nell'Ucraina sono soggette ai procedimenti della Corte Penale Internazionale, ma l'Ucraina ne ha accettato in precedenza la giurisdizione. Un'altra possibilità è che nei paesi che hanno cominciato a perseguire i crimini di guerra, non compiuti dai loro cittadini come la Germania, si possa avviare un procedimento sulla base del concetto della giurisdizione universale. Si tratta di una strada lunga ovviamente, non ci sono garanzie di successo, ma oggi la raccolta di prove di alta qualità in Ucraina aumenta e aumenta anche la probabilità di successo. Forse è anche vero che comunque la maggioranza delle donne ucraine non ha combattuto sulla linea del fronte, ma in realtà stanno sacrificando molto le loro vite, tanto quanto gli uomini possiamo dire, e quindi assicurarci che gli uomini che violano i corpi delle donne non possono più farlo nella totale impunità e indifferenza è un dovere che abbiamo nei confronti non solo di queste donne, ma nei confronti dell'intera umanità. Per una volta abbiamo la speranza di poter essere d'aiuto alle donne e soprattutto di indagare sui crimini di guerra. Siamo in partenza, ma insomma siamo già a buon punto. Mi fermo qui per passare subito la parola a Mirko Sabatino, che ho intervistato, abbiamo sentito la prima parte ieri. Mirko Sabatino ha scritto un libro che è La vita anteriore, è originario di Foggia e con il suo primo romanzo L'estate muore giovane, che è stato pubblicato sempre da nottetempo, ha avuto un grandissimo successo, tant'è che è stato pubblicato e tradotto in tanti paesi. Questo suo secondo romanzo conferma le sue doti di scrittore, di costruttori di trame ed è un libro molto denso, molto intenso, pieno di storie umane, passioni, luoghi e tempi diversi. Però ascoltiamo cosa ci racconta. Rieccoci, siamo di nuovo insieme a Mirko Sabatino, stiamo parlando del suo libro, dell'ultimo libro Riuscito, perché ne ha scritto anche un altro che ha avuto un grandissimo successo. Questo di cui parliamo oggi si chiama La vita anteriore ed è pubblicato da nottetempo. Bentrovato Mirko. Bentrovati. Allora, la prima cosa che volevo chiederti è se hai mai avuto in qualche modo a che fare con il mondo della detenzione, del carcere. Sì, nel 2015 lavoravo in libreria a Roma, alla libreria Fanucci, che adesso non c'è più, di fronte al Senato, e insieme a mio collega Massimiliano Timpano, libraio e scrittore grandioso, abbiamo organizzato questa iniziativa, questo progetto che si chiama Libro Sospeso. I nostri clienti entravano in libreria, compravano un libro a loro scelta, un libro che reputavano degno di essere letto e lo lasciavano in libreria. Abbiamo raccolto questi libri e li abbiamo inviati alle carceri per poter permettere di leggere questi libri scelti secondo la sensibilità dei nostri clienti. Ah, ecco, quindi erano i vostri clienti che decidevano cosa regalare. Benissimo, perfetto, una bella iniziativa che speriamo di ripetere anche noi tra Bologna, Parma e Emilia Romagna in generale. Mirko, tornerai un attimo al tuo libro, perché nella puntata precedente abbiamo cominciato anche a svelare un po' la trama, no? Qua si comincia addirittura durante la gestazione di questo bambino Ettore che nasce in un giorno di aprile del 1977 e da una mamma giovanissima, da un padre che a un certo punto scappa. E ci sarà sempre la ricerca di questo padre da parte di Ettore, proprio è un chiodo fisso. E poi succede qualcosa, lo stavi raccontando l'altra volta, succede qualcosa a Ottavio Maggio che è il nonno. Ti lascio continuare. Sì, succede che Ottavio Maggio, lo svegliamo questo, che dice Antonella, lo svegliamo questo, c'era qualcosa, ma da questa, una tragedia, un incidente, da questo incidente che porta morte, però c'è anche, nasce anche un incontro, da questo incidente che porta una morte c'è anche una vita, e cioè l'incontro fa il bambino Ettore Maggio che è a quasi sei anni e Bruno Basanisi, che è il coprotagonista o il protagonista insieme a, comunque, Ettore, e poi vedremo un'altra, un'altra, una ragazza, una bambina che poi diventa una donna, e insieme a Ettore appunto è il protagonista, questo Bruno Basanisi, e ne nasce, ha un'amicizia lunga una vita. è un altro, è un personaggio che ha, è un artista come, è un pianista, diventerà un pianista, e lo diventerà in maniera anche magica, per così dire, e condivide un gran pezzo di vita con Ettore. Senti Mirko, io mentre parlavi mi stavo rendendo conto di un'altra cosa che avevo percepito leggendo il tuo libro, che c'è molta, come dire, molto calore del sud, queste famiglie sono famiglie piene di membri che partecipano alla vita familiare in modo molto, molto diciamo presente, che è tipico del sud, molto spesso, tu sei pugliese, giusto, sei di Foggia, e secondo me questa, diciamo, tua, questo tuo imprinting emerge molto da questo libro, che è un libro corale alla fine, dove tanti personaggi hanno la loro, il loro ruolo, che è un ruolo anche un po' istituzionale, cioè la zia fa la zia, la mamma fa la mamma, cioè le funzioni sono molto chiare. Diciamo che è un sud che adesso è in parte cambiato, nel senso, quella famiglia è lì, adesso non si ritrova più veramente in nessun luogo d'Italia, ma direi anche del mondo, almeno quello occidentale, e la famiglia tradizionale intesa senza connotazioni negative, cioè la famiglia che conteneva al suo interno anche i nonni, i zii, dove ognuno aveva appunto, come dici bene un suo ruolo, una sua funzione specifica, che da noi poi era anche un po' più amplificato. Io conosco da vicino quel tipo di famiglia, perché per molti anni ho vissuto a casa di miei nonni, materni, quindi in parte c'è questo rispecchiamento in Ettore, non è una storia autobiografica, però io conosco bene quella situazione familiare. Non l'abbandono paterno, per fortuna, però, esser cresciuto anche dai nonni, che sono figure fondamentali secondo me, che oggi purtroppo sono meno presenti, perché è cambiata la società, perché siamo tutti sbattuti in punti lontani dalla nostra casa di provenienza, dalla nostra città di provenienza, però che secondo me sono fondamentali nella formazione di un bambino. Un bambino deve crescere con tante figure, con tanti amori diversi intorno, è una crescita sana quella lì. Sì, inizialmente è una crescita, diciamo, in cui la presenza femminile è molto forte, perché ci sono la nonna, le zie e la mamma, nella sua giovinezza comunque riesce a tenere in piedi questo rapporto, diciamo, stretto col figlio. Mentre, diciamo, le figure maschili, eccetto Ottavio, che veramente è di una bellezza notevole, perché porta avanti tutti i suoi principi da uomo di quel tempo, ovviamente. Invece c'è questa figura paterna che si diluisce a un certo punto, no? Diventa quasi, non lo so, una presenza, un'assenza presenza, una presenza assenza, insomma, c'è e non c'è. E questo ragazzo rimane un po' incastrato in questa ricerca. Perché? Sì, perché poi alla fine, per quanto questa assenza, l'assenza paterna, si cerca di colmarla con tanti amori diversi, tra cui anche quest'amore di questo nonno padre, nonno padre patriarca, anche perché alla fine tira avanti, come dire, il carretto della famiglia, perché si cresce il nipote, ma si cresce anche le figlie che sono ancora giovani, la moglie, le sorelle addirittura, quindi è una famiglia veramente allargatissima, però nonostante questo, il padre è una figura chiaramente fondamentale, che non può mancare, e questa assenza non viene colmata, non in entrare, comunque è un personaggio molto molto determinato, e in effetti quella diventa poi la sua ossessione, la ricerca di questo padre. Tra l'altro lui ha un'ambizione smisurata, in realtà anche frutto di un calcolo statistico, perché lui da piccolino si dice, se papà non è morto ed è fuggito, non gli viene detto che è fuggito, però gli viene detto che il padre è lontano, se non è morto, se io mi metto in movimento e cerco di visitare più città possibili, aumento la probabilità, appunto statisticamente, di incontrarlo, e così succederà. Quella diventa la sua ossessione e diventa anche la sua, ecco, prigionina anche in qualche modo, perché la vita di Ettore viene determinata da questo progetto, se vogliamo, anche da folli. Sì, che poi ci sono, ci saranno delle occasioni in cui lui penserà di aver trovato il padre, anche perché sa che qual è la sua professione, medico, glielo raccontano, raccontano appunto che quel che era un ragazzo che si era laureato in medicina e aveva cominciato appunto la professione, e quindi lui cerca in questi ambienti di trovare il padre. Poi non vi diciamo come va avanti, perché questa è un'altra scoperta, un'altra, diciamo, chicca che lasciamo che scopriate da soli, però effettivamente gli intrecci sono tanti, anche con una ragazza, una ragazza che in questo, diciamo, rapporto d'amicizia che si sviluppa con Bruno e con Ettore ha un ruolo determinante. Si chiama Irene Favelli, anche lei la incontrano, i due ragazzini la incontrano piccola, lei vive di fronte alla casa del nonno di Ottavio Maggio, di Ettore, dove vive Ettore di fatto, e la incontrano sia Ettore che Bruno nella stessa classe, in terza elementare, non so perché lei cambia classe, si incontrano con questi tre ragazzi e ne nasce un rapporto molto particolare, in cui lei fa un po' in qualche modo anche da ancora, è anche la parte più razionale del trio, è un trio composto da due artisti, come vedremo Ettore diventerà scrittore, e Bruno pianista, ma pianista di fama mondiale, Ettore è anche scrittore famoso, uno che riesce addirittura a vivere in scrittura, e lei invece è questa ragazza che resta innanzitutto nella sua città natale, perché ha un'inconvenza che si è autodata in qualche modo, ed è questo fratellino che ha un ritardo mentale e che lei poi si cresce in qualche modo, quando suo padre morirà prematuramente, quando sua madre, anche per il dolore della perdita di questo marito, si darà anche all'alcol, avrà anche problemi di vario tipo, lei si fa carico di questo fratellino che ama e per questo motivo non abbandonerà mai. Bene, sì, io purtroppo ti devo interrompere Mirko perché il nostro tempo è terminato, ti ringrazio molto per questo lavoro così complesso, ma così diciamo profondo che sei riuscito a fare, e ci hai raccontato un po' di un pezzettino di ognuno di noi in realtà, perché quando un libro è bello ti leggi nelle sue pagine, quindi insomma questo l'hai fatto, e io ricordo a tutti che potete acquistare questo libro che si chiama appunto La vita anteriore, Notte del Tempo, Mirko Sabatino, non perdete l'occasione, intanto salutiamo tutte le persone ristrette del carcere della Doz, delle carceri dell'Emilia Romagna, grazie per averci seguito, grazie Mirko di essere stato con noi, buon lavoro, aspettiamo che tu ci faccia leggere altro. E dopo aver ascoltato anche oggi Mirko Sabatino, vi invitiamo a scriverci, redazione liberi dentro, chiocciolagmail.com. Come sempre un saluto da parte nostra, da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco e Diana Botta al montaggio delle nostre puntate, Paola Leotti, ci rivediamo domani per la nostra mezz'ora quotidiana. Grazie a tutte e tutti. Grazie a tutti.